Cosa abbiamo visto stasera? Cosa abbiamo visto stasera? Io sono totalmente scioccato da questa Roma contro l'Empoli e questo fa capire come l'Empoli sia oggi una squadra veramente mente di occhio ma ci arriviamo subito, intanto siamo sul 7-0 minchia, di solito è la Roma che prende 7 gole, non che fa 7 gole questa cosa già mi sorprende tanto comunque ne parliamo adesso, non sto neanche seguendo questi 3 minuti di recupero perché per favore, dubito, spero che non riesca a mettere un altro gol l'Empoli in questo inizio del campionato è l'unica ancora a 0 punti le altre sono tutte almeno 2 e non hanno fatto un gol e hanno preso 12 gol, delle quali 7 gole veramente un partiale gravissimo da parte di questo Empoli una Roma che mette già i sigili dopo 10 minuti perché se vai subito in vantaggio con il gol di Dybala e poi a raddoppi con Renato Sanchez allora l'abbiamo già capito che tu hai vinto la partita ma se poi ti fai, vabbè, quasi un'altra lettera a partita di Dybala scusate a partita di Dybala e c'è l'autogol di Dybala poi abbiamo già finito, inizia i cambi e però poi arriva Dybala che ti fa la doppietta poi Cristante amore e ciò l'amante si chiama Brian Cristante che è il giocatore sontuoso Brian Cristante poi arriva il primo gol in giallo-rosso per Romero Lukaku e per chiudere tutto Mancini sigla il 7 a 0 Cristante che vabbè Cristante ha fatto due assiste a un gol io Cristante da quando cazzo non segnava da quanti decenni è che non segnava Brian Cristante oggi la Roma fa vedere di esser c'è da una scossa molto importante in zona Champions League o comunque in zona Europa perché loro dimostrano di non essere la conference però amici miei della Roma ma ho tutto niente perché fino ad ora eravate diciannovesimi avevate un punto adesso sono dodicesi ovviamente vi ricordo mai guardare la classifica fino al momento però Corco Giuda ho tutto niente cioè avevamo fatto avevamo la differenza in rating meno 2 perché avevamo preso due gol in più rispetto a quelli fatti 4-6 era il parziale adesso è 5 di positivo attualmente è il migliore no il secondo migliore attacco del campionato vi ricordo mai guardare i dati adesso però comunque oggi ne fanno 7 alle Empoli le Empoli con dopo mi vado a leggere per curiosità anche qualche pagina delle Empoli qualche fanpage delle Empoli ho già letto Sassuolo Zone che è la pagina del Sassuolo fa Sassuolo volevo dire che va subito a dire Dionisi out questo qua me lo ricordo che è un Dionisi out comunque vado a vedermi una pagina delle Empoli perché in queste prime tre giornate le Empoli non ne ho azzeccata una cioè contro la Juve io che partite ho visto è l'Empoli quella è la Juve e questa contro la Roma oggi la Roma ha dominato tutto l'Empoli ha fatto dei passi indietro rispetto anche all'anno scorso e se io mi potevo aspettare dei passi così netti ma mica così tanto cioè le prime giornate ok una ci può anche stare perderla tra Ella, Sderona e Monza ma almeno un punto lo devi portare a casa ci sta a perdere contro Juventus e Roma ma non senza fare un gol e prendendo le nuove in due partite e la prossima è contro l'Inter e sarà una passeggiata il 24 settembre non vedo l'ora che continui il campionato perché mi sta appassionando tanto l'estate mi sono messo mezzo il cuore in pace è finita che bisogna andare avanti anche con la scuola per favore fate tornare prima possibile il campionato perché non sto più nella pelle per fortuna adesso ci sarà anche l'Europa tra Champions League e Europa League ma oggi la Roma devo segnare molto importante al campionato come vi stavo dicendo perché questa vittoria potrà dare senza alcun dubbio morale alla squadra e proprio una condizione mentale arrivi alla partita di Europa League contro non mi ricordo assolutamente chi con una una capoccia molto diversa contando che poi io già hanno giocato abbastanza alcune riserve tra cui ha giocato a centrocampo Paredes che non viene un titolare fisso ha giocato Cristans ha giocato l'esordio ed indica e gli oriente non so se fosse l'esordio oggi clamorosamente lui Patricio chiude una clean sheet risultato fin troppo severo ovviamente per quello che si è visto in campo ma ovviamente ci sta a vencere voglio vedermi adesso anche nei post partita a parte dei romani di Gabbo come si quali soliti per vedere cosa diranno perché io fossi il tifoso della Roma non saprei che dire che dire che dire non ne ho la più paliera dopo ci vedremo anzi domani direttamente ci vedremo ovviamente con lo zona camomilla andremo a commentare un pochino le partite di questi due giorni anche il Napoli che non ho commentato ma oggi la Roma fa una partita cioè la parte buona ottima trova tre punti incredibili ma non ha più paliera idea di che dire oggi perché ho tutto o niente ho loro nothing questo slogan lo usavo tipo io ogni tanto mi teniva ho loro nothing ho tutto o niente che questo caso che ma cazzo Roma prendi anche punti magari ti potevi conservare tre di questi gol e falli contro uno contro la Sernitana l'altro l'altro contro il Milan e l'altro ancora non mi ricordo con chi hanno perso comunque io signori vi saluto ecco contro l'Ela Sferona comunque io vi saluto signori noi ovviamente ci vediamo domani mattina penso alle 7 del mattino con il video quotidiano dove andremo a parlare ovviamente di questa fino ad ora giornata vi saluto ciao